SIGLA Buck, ti ricordi di me? Tua madre si chiamava Sara e ricordò che ti riempivi le scarpe dei giornali. Sei un ricercato. Non faccio più quelle cose. Chi non la pensa così sta venendo a prenderti. Non intende catturarti vivo. Capitano, molte persone la vedono come un eroe. Altre, invece, preferiscono il termine vigilante. Ha sempre agito con un potere illimitato e senza alcuna supervisione. È una cosa che il mondo adesso non può più tollerare. So che Bucky è importante per te. Ma stanne fuori. Ti prego, peggiorerai le cose. Stai dicendo che mi arresti? Ci saranno delle conseguenze. Capitano, mi sembri sulla difensiva. Giornata faticosa. Se non possiamo accettare le regole, siamo come i cattivi. Io non la vedo così. Ti darei un pugno su quei bei dentini. Voglio essere sicuro di considerare tutte le opzioni. Quelli che ti sparano addosso, spesso, sparano addosso anche a me. Sai cosa sta per succedere? Davvero vuoi risolverla così? Che facciamo? Combattiamo. Mi dispiace, Tony. Sai che non lo farei mai, ma non ho scelta. Lui è il mio amico. Lo ero anch'io. Lui è il mio amico.